Buon corno, ciao! Come va? Sei tagliatissimo, Berto, non ti sei sentito Eh vabbè la vita, oh devi smettere di cadere il microfono, porca troia Ah, pensavo stessi dicendo a me, ero tipo bro, ehi non sono caduta amico, gg Grazie Matte, gg, 14 mesi Grazie Matte per i 14 mesi Grazie, grazie per l'applauso Grazie mille Grazie mille, grazie mille Grazie mille ragazzi Grazie boys Allora, io vorrei Mi sono perso qualche inco, non ci sta il merch degli amichetti In tal caso perché manca, perché si sta creando in questo mese Grazie mille Grazie Enderina per il 15esimo mese Ma i vostri canali whatsapp, io l'ho fatto Enderina si è subbato Ciao amichetti, ma i vostri c Asterisco, 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 whatsapp Io ho deciso di fare quello cringe Cheatposting, tenermelo su telegram e fare quello serio su whatsapp Mi fa molto ridere per ora Cioè è strano No, non è niente di particolare Però fa ridere E poi sopperisce alla mia grave mancanza di broadcast su Instagram Quindi uso quello In che senso? Ah è vero che tu ancora A me non l'hanno ancora dato Dopo 18 mesi Io non posso, non me lo merito Ma l'unica cosa che riesco a pensare È che sei qualche tipo di shoutoban Che non ti danno le nuove feature Perché se no non ha senso Cioè l'hanno data veramente a tu Sei l'unica persona che non ce l'ha No, no, infatti è strano Non ho ulteriori informazioni Non sei abbastanza famoso Vero, vero Oggi ho usato per la prima volta la condizione di schermo tipo Discord Ma su whatsapp ero molto destabilizzata Ma che cazzo? Invece è comodissima, regà Ma cos'è che fa, scusa? Eh, fai, stai in videochiamata E puoi condividere lo schermo? Sì, come su Telegram Ma che ridere Io prima se dovevo fare le videochiamate dove serviva condividere lo schermo Dovevo per forza farlo con Telegram E invece l'ho messo anche dentro whatsapp E sono molto felice di ciò Anche se devo ammettere le videochiamate su whatsapp Fanno abbastanza cari Quindi sono ancora team facetime Beh, facetime è oggettivamente superiore Sì, oggettivamente supremo Bert, dici subito il canale whatsapp Beh, avrai messo una storia? No, non ho messo una storia Per ora l'ho messo solo sul canale di Telegram per fare un test Volevo testarlo prima Allora quando sarà disponibile lo metterà nella storia Farò una storia, domani probabilmente farò una storia Comunque Allora io avevo questa mattapazzia idea Ne stavo parlando prima con Bert È una bellissima idea Di fare una GG Per funzione che ancora non ho condiviso la sub Quindi ancora non sappiamo chi è Però grazie Che è successo qua? Perché il session sub counter non È esploso Momento È session sub count Momento Allora È lo sistema Il mio canale è Telegram Mentre Bertra illustrerà l'idea Allora l'idea ragazzi è una serie su Minkroof Un po' buffer in mezzo a vanilletti e chissà cosa ci sarà dopo Di una mappa tipo One block I block Quelle cose lì Molto simpatiche Molto simpatiche Mink Trattino basso Trattino basso Si è subatto Grazie Mink Un quarto giorno di notte turno a sorvegliare gli stand di Lucca Mi dispiace Ma quando inizia Lucca? Tra un botto? Tra una settimana? E che già sorvegli gli stand? Quanto pare lui deve sorvegliare gli stand Ma è comodo però Sorvegli gli stand quando non c'è il burdello di persone comunque Si però di notte che palle Appunto ti fai giga cazzi tuoi Si però magari c'è anche la nanna di notte Vabbè nannerà di giorno Quanto ti pagano Mal? Si può dire? Sono curiosa di sapere quanto può Raccontaci tutto Può essere pagata una persona che fa Che fa la protezione Manca un minuto ragazzi Il momento di far partire l'hyptrain Dovete fare una sub Rifatele Bittini Bacini Tutto quello che vi pare Fate partire l'hyptrain Bisellini Perché voglio sentire solo una cosa io Voglio sentire ciò che accade quando Ah è vero cazzo No dovete subito raga Dovete istantaneamente Io ho bisogno 7 euro l'ora netti Pochissimo Allora fra un po' poco Sì no è un po' poco Deve essere Pochissimo fra Porca troia Tu devi Devi picchiarli È sfruttamento Peso Questo Berta posso La sub GG Ragazzi condividete le vostre sub Condividete la sub Che porta l'hyptrain Vi prego Avete 24 secondi Condividete questa sub 20 secondi No vi prego No sta per andare via Francesco Virgolini No Francesco Virgolini No ragazzi È il momento della sub Salvate Francesco Virgolini Sono Francesco Fie Francesco Virgolini Fie 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 La maquina ma peros De Tante Talle Fie Fie Con il numero 45 Bello Bello Grazie mille Sono così felice Quando parte l'hyptrain Ora posso dire Ora aspetto Il momento dell'hyptrain No no è bello Francesco Virgolini Quindi grazie mille Roy Mustang Che bello Ti chiami pure Roy Mustang È il nome perfetto Per far partire Francesco Virgolini Ragazzi Grazie mille Per questi due mesi di sub Comunque bacini Nel volume al massimo E sono senza cuffie E sono arrivi vicini di casa No comunque L'altro motivo per cui Ho messo 4 su 30 sub È perché Quello mensile Oh era troppo smerdato Cioè Ho aperto oggi La live Cioè OBS per far partire la live E mi usciva 180 sub Vi faccio Fra Era madonna Ma Abbiamo tre volte tanto le sub Perché cazzo c'è scritto 180 E basta Cioè quello Perché per lui Le sub dell'ultimo mese Erano 180 E io mi stavo incazzando E che mi hanno detto Senti vaffanculo Non so come fare Cosa intendete per un momento GTRP nel sub goal Beh A crabs A crabs Cioè Mi sembra molto autoesplicativa Come cosa Nel senso Molto molto chiaro Cosa pensi Quali sono le altre opzioni Grandetta amico Rimani per favore Questo Beh Io sono d'accordo Un momento Grandetta amico Rimani per favore Cioè Nel senso Andiamo semplicemente A giocare a GTRP Questo è quello che si fa Al raggiungimento Delle tante Cos'era questo Che paura Stavo cercando di bere Nel modo più rumoroso possibile Ha funzionato Comunque se volete Ho fatto il copypasta Dell'addio di Flavia Subito Mettelo nel gruppo Nel gruppo sub Nel gruppo sub Per favore Per favore Subito Subito Dov'è Dov'è Lo voglio visionare Grande totta Anarchia Rapiniamo Puglia Raga Oddio Vi devo dire Un'altra conversazione Che ho avuto oggi Su Instagram No Di nuovo Totta Ma perché No Questa arte pura Arte pura Questa Allora Una persona Mi scrive Alle 7 e 24 di mattina Stai già dormendo Non mi ha mai scritto prima Zero follower Zero posto Solo un following Me Cioè che segue me Poi alle 9 e 26 Scrive Non riesco a leggere Questa cosa di giro Scrive Ora devi Ora devi Dai svegliati Ho voglia della tua Fighetta Aspetta Non si ferma qui Dice Allora È importante dire Che questa persona Nel nome è Apuglia Ok E quindi Stai già dormendo Alle 7 e 24 Alle 9 e 26 Dai svegliati Ho voglia della tua Fighetta pelosa E io mi sveglio stamattina E leggo questo messaggio E faccio Ma che cazzo Sto vivendo E allora La prima cosa Che mi viene in mente È rispondergli Alle 11 e 14 Con Scusami Non interagisco Con i pugliesi Questa Al che lui Mi risponde Ma non eri di Taranto Puntini puntini Sono quello Con cui hai parlato Ieri sera Su Amigol E poi non ho più risposto Per ovvio Dio Però Io non voglio dire Il nome di questa persona Perché poi magari Andate a scrivere Eccetera Però Manderò lo screen A Bertra Perché Il nome di questa persona Rende il tutto Ancora più bello Ma non posso condividere Voglio osservare Questa cosa Oh Gesù È arte pura Non si usa Altra di Oh voglia La tua fighetta pelosa Scusami Non interagisco Con i pugliesi Ma non eri di Taranto Oh Gesù Dio Non ce la faccio Ti giuro Però ci dicono Dalla chat Che è uscito Il Il copypasta Rendetelo un comando Ovviamente Allora È il momento di rileggere Il copypasta Con quel ciò Sabrizna Ho sperato Che potesse Nascere qualcosa Tra di noi Purtroppo A questo mio dubbio Nessuno potrà mai Dare risposta Perché da oggi 18 ottobre 2023 Sono già passate I cinque giorni No Sì 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 Perché Perché da oggi Il 18 ottobre 2023 Alle 22.40 Io uscirò dal server Per l'ultima volta Hanno cacciato Gustavo Per sempre Non cercare un colpevole Le colpe sono di tutti Soprattutto se per tutti Intendi Franci47 Spero che ci rivedremo In questa vita o nell'altra Se mai avrai interesse Ho rubato una Ferrari Che ora non posso utilizzare Ma se la vorrai Rientro nel server Solo per regalartela Se vuoi contattarmi Sabati al canale Twitch Amichetti Se vuoi parlare anche con Gustavo Una sub tier 3 Dovrebbe bastare Ti ringrazio Per le bellissime serate di RP Un saluto Flavia Anzi Tot Mamma mia E niente È un momento Veramente Veramente Emozionale Del gaming Sì Sab Riz È stata Una parte importante Comunque Io ho fatto l'audio Di Framai Fieric Solo che si sente Bert Lo sotto Servirebbe Qualcuno Riascetto A riorumore di fondo L'ho mandato Il gruppo sub Sono confine Del fatto che qualcuno Ci Framai Fieric Quindi non giocherete mai più A GTA Ma non abbiamo detto Sara Guarda Guarda Alla destra Dello schermo Al centro Alla destra Alla destra Verticalmente E al centro Orizzontalmente Troverai Un goal Che è Se arriviamo a 30 sub Momento GTRP Ecco Totta qualcuno potrebbe Fingersi Te il suo amico Da sto punto Magari esce un video Forse Forse Non lo so Comunque Ah un'altra cosa Vabbè Altre info Che sono Sono accadute Ho fatto un Un placement E Un brand Che però Non prevedeva Che io Uscissi nessun content Sui miei Sulle mie piatture Ma doveva essere Solo sul loro Sul loro TikTok Ed è uscito L'altro giorno Il primo video Mio sul loro TikTok Ed è andato Molto bene Tra l'altro Sono molto felice Diciamo E Quindi io Mi sono messa a leggere i commenti No perché non arrivandomi direttamente Sono insulti Ero curiosa Di leggere i commenti No 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 Allora tutti i commenti sono Totta Punto interrogativo Tutti Praticamente Cioè sono 50 commenti Posso quasi Mettere mano sul fuoco E 45 sono così Sono totta Punto interrogativo E poi ci sono gli altri No sono tipo Ciao totta Oddio totta Oddio totta Bella totta 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 Che ci fai qui Eccetera Però insomma Questa è la vibes E poi ci sono gli altri E poi ci sono gli altri Il commento con più like È un Oddio totta Che fai qua Ok Ok Il secondo commento con più like È totta non ti devi fare Le strisce fanno male E io non ho capito Perché Perché non mi sembra Di avere all'uso Niente di simile All'interno Del video Però va bene Continuiamo invece Questa persona ha scritto Io non riesco a smettere Di guardare Quella gigantesca Infinita Grossa Immensa Gargantuesca La fronte Non mi segue Questa persona Fanni Sì sì Oh Oh Cosa è successo Cosa è successo Scusa Ho aperto il canale Di questa Il profilo tiktok Di questa persona Per vedere se mi seguisse Ok E il suo ultimo tiktok È quel video Ok Quale video Il video Quello che ho fatto Con il brand Ah È il suo video Sì Che ha screen Ricordato E il La descrizione Sì sì Interessante Questa pubblicità Però stai un po' zitta Che devo giocare E Il video È lui Che fa Lo screen Del video Zumba Sulla mia fronte E gioca A Tic tac toe Sulla mia fronte Perché E basta Gioca da solo Tra l'altro Però vabbè E E questa storia Cioè Questo tiktok Ha A 4 like E un commento L'unico commento È povera Carlotta E neanche mi segue Questa persona Va bene Ok No me la collo Me la collo E Atto di bullismo No va bene Ci sta Ci sta Mentre poi ci sono altri Tipo Totta senza Bertra Mi fa strano Sono abituata A vederli sempre insieme Perché effettivamente Io da qualche mese A questa parte Apparo A fare sugli schermi Solo su amichetti E Quindi questo Poi c'è Un'altra persona Che ha scritto Pescedisco Pescedisco Anche questo Non sono riuscito A comprenderla pieno Pescedisco Cos'è pescedisco Poi un'altra persona Sempre come le altre Ha scritto Totta Punto interrogativo E il brand Ha scritto È proprio lei Cuoricino verde E questa persona Ha risposto Bombo Al commento Del brand Ma perché Stava parlando Dell'insetto Totta Sì 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 Certo certo Poi ovviamente Ma alla fine Il kebab Era buono Oh vabbè Questi notevoli Perché bab l'ha cambiata Porca droga Questo ci sta Totta si è venduta Vabbè Pensavo fosse superata Un po' questa cosa Comunque Ma io Cioè raga Fosse Fosse per noi Ci venderemo ogni giorno Della nostra vita E poi un'altra persona Scrive Totta mi sblocchi su IG Aiaiai Vabbè E un'altra persona Gli risponde Cosa hai fatto bro E questo dice Ma in realtà Non lo so Mi ha bloccato Pure Becky Stesso motivo Però non sa perché Però sai che un'altra persona L'ha bloccata per lo stesso motivo E poi c'è una parte Che si chiama Che TikTok mi blocca Che è View folded comments Che Non so cosa significa Sono tipo sì Quelli che non hanno Non sono passati E qui Ci sono Tre commenti Totta come ti sei ridotta Le droghe fanno male Ok Non capisco perché ci sono Tutte queste referenze alle droghe Io giuro che non ho fatto niente nel video Ok Che riporti alla droga E un account Con nome Giovanni Rana Ha scritto una cosa Che devo ammettere Mi ha fatto molto ridere Ovvero iPhone 15 Type of forehead E un'altra persona Ha scritto Massive Massive Cranium E basta questo Nel senso Il video ragazzi Vi uscirà Nei perte di TikTok Se è di vostro interesse Insomma Se no non vi uscirà mai Cazzi vostri Ecco Cazzi vostri Diggio 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 Mattott è quella Della friendzone Dicile Fly me to the moon Let me play Among the stars E oggi Vabbè Tra tutte queste altre cose Ho anche scoperto E vissuto in prima persona Il limite Di 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 Elon Musk Fuck Che Elon Musk Ha ufficialmente messo Un limite Di quanti tweet Puoi leggere ogni giorno In che senso leggere Non scrivere Leggere 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 What the fuck Sì mi sto vedendo le mie cose Su Twitter E ad un certo punto mi fa No Limit exceeded Wait a few moments E io ero tipo Fra Che cazzo vuoi porca troia Strano Sì ma è vecchia sta cosa Ma a quanto pare Non me l'ha mai successo Fino ad ora Cioè funzionava Però a quanto pare Ho letto un sacco di Di tweet ultimamente Che ti devo dire Devi leggere Meno tweet Non so qual è il limite Ma poi come fa a capire Quali ho letto Cioè tutti quelli Che mi appaiono sullo schermo Quindi Cioè apro Twitter E già sono dieci Sì E se non te ne fotte Un cazzo Di nessuno di quelli Sono cazzi tuoi Vedi però Se io cerco Limit X Mi escono le cose Di matematica Cioè i limiti di X Sta Il limite di funzione Ecco qua Vediamo Ah è vero che Scusa Mi ero dimenticato Che si chiamasse X Adesso È una cosa È una cosa che ogni tanto Ogni tanto Mi sfugge proprio dal cranio Chi non mi dimentica No dov'è Quanti Quanti tweet Può leggere al giorno Eccolo qua Ecco Solo 600 post al giorno Ma perché Cioè ha deciso Basta Perché No per spingere Per spingere Il verificato Perché se paghi Il verificato Allora non hai più Il limite Madonna che è assoluto Fallito Sì Porca troia Allora se sei Un nuovo account Tra l'altro Nuovo Ok E non hai il verificato 300 post al giorno Se invece hai Un po' di tempo Ma non sei verificato 600 post al giorno E invece Quelli verificati 6000 post al giorno Ma che cosa Incredibilmente L'ha sfigato Sì Non posso che condividere Era un masca pagliaccio Popi 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 Quasi ai livelli Di Franci 47 Sinceramente Però certe cose Non possono essere Quasi Quasi Porca Per favore Quasi ai livelli Di Franci 47 È tosto Cioè un'accusa pesante Quello è difficile da superare Quello è difficile da superare Eh minchia Ci vuole un certo impegno Per superare Franci 47 Sì È vero È vero Devo ammettere che è vero Io da grande vorrei essere Franci 47 Dove essere un'asse Ci sta E vanno a retotta Quanti anni avrà Franci 47 Mi è venuto questo dubbio È del 47 lei Ah Forca droia Ah lei è una donna 2023 Meno 1947 Ha 76 anni E gioca a GTRP Boh L'età media è quella Oggi ho fatto Un interessante giro Nel Nel mondo delle live Di Di TikTok Ah Ecco Bertra Cosa ti volevo dire Mi sono preoccupata Molto per te oggi Perché? Perché io stamattina Ho aperto TikTok E c'eri tu in live Ah Con un gameplay Di Subway Surfers E ho detto Sì Non voglio commentare Questa cosa Troppo TikTok Per oggi Ho chiuso Poi Dopo pranzo Questo pomeriggio L'ho riaperto E ho ritrovato Di nuovo te in live Però invece Del gameplay Di Subway Surfers C'era un tuo video sotto E allora lì Due cose Ho pensato È in live Da stamattina Devo scrivergli Se sta bene Cioè Mi devo iniziare A preoccupare Cosa sta succedendo Ha fatto molto Mi sono divertito molto E poi Però sono arrivata Questo pomeriggio La cosa che mi ha Anche fatto pensare Oddio Ma questo è veramente In live da stamattina Perché Quando sono entrata Poi questo pomeriggio Tu stavi staccando Sì Hai detto Oddio Sta staccando ora Da stamattina E quindi ho detto Cazzo Ma allora è vero Che sta qua da stamattina Porca troia E lì ho detto Boh Gliene parlo Faccio no Magari si offende Che prova a fare qualcosa Io lo prendo per il culo Eccetera Però Gliene parlo Tipo Oddio L'intervention Eh sì Boh Ma gli devo chiedere Se va tutto bene Se vuole una mano Con qualcosa Cioè se Boh Non so Gliene parlo Oppure magari Lo metto a disagio Che ha provato a fare Una cosa nuova E io subito Lo prendo per il culo E quindi sono stata zitta Però Cioè ora che l'hai tirato tu fuori È veramente difficile Stare zitta E non chiederti ulteriori spiegazioni E vorrei che me le dessi Mentre mi vado a riempire l'acqua Grazie Allora Non c'è nessuna spiegazione Se non Stamattina Appunto Ho fatto questo Ho registrato questo video Per reaction Dove Esploravo il mondo Delle live di tiktok Perché Già in questi giorni È uscito un po' di volte Il discorso Tipo le live NPC Queste cose Ho detto Cos'è tiktok Live Cioè cos'è che vedo Attivamente E quindi Ho iniziato a scrollare A caso Su tutte le live che trovavo Cioè sono proprio andato Nella sezione live Ho scrollato in giù All'infinito E devo dire Che è traumatico Assolutamente Allora Alle 10 Qualcosa del mattino Il 90% Delle persone Sono ragazzine In classe Che guardano le live E ne ho beccata una Che in quel momento Stava venendo cazziata Dal professore Perché era al telefono E prima di andare Un tizio Con scritto 98 Nel nome Quindi uno di 25 anni Ha detto Haha ma quella linguetta E lei prima di andare Ha fatto E poi E poi ha staccato La live di tiktok Un momento di un cringe Io ti giuro Ho raramente Toccato queste vette Di Ma Scusa io comunque Un attimo Ho avuto un Un Wow I'm fucking old Quando hai detto I 98 Hanno 25 anni E io dico What Cazzo Cioè per me I 98 Per me i 98 Sono ancora In seconda superiore Io ancora Le vibes di 98 Sono quelli di terza media Perché io avevo Una migliore amica Quando ero in prima media Che era in terza media Ed era 98 Quindi per me Quelli sono i 98 Quelli di terza media Grazie Nocturno 67 Ha donato 100 Io ogni volta Che apro Per sbaglio TikTok live Mi compare Una telecamera Di un aeroporto Tipo cinese Ogni volta Resto stunnato Wow Emozionante Emozionante Allora Altra news Accaduta oggi Finalmente Ho il mio internet Ehi Minchia Ci hai messo solo Finalmente Ho il mio internet Dopo ben due mesi Porca troia Dopo ben due mesi Ho il mio internet Tanti auguri È arrivato oggi Il bro Il fra E mi ha messo internet E ho detto io E sono molto felice Sì perché ho avuto Un upgrade Allora Già prima Andava molto bene Internet Ah sì Infatti Solo che avevo Il La gigabit Punto Ok E adesso Ora ho la 2.5 gigabit Porca troia E ho messo Il mio modem Che è il Quello con Wi-Fi 6 Il fritzbox No Quello con Wi-Fi 6 Che è sempre Del mio provider Che non dirò Perché poi ho solo Grandi bestemmia Nei suoi confronti Quindi non lo dirò Non si sponsorizza Il mio provider Che ha il modem Wi-Fi 6 Che è più veloce In teoria E E niente Ho Un gigabit In download Proprio Un gigabit In download E tipo 700 Mega in app Una roba del genere Effettivamente Sugoso Sì Cioè Non che prima Avessi Cioè Prima avevo tipo 600 In download E 400 In app Che è lo stesso Tantissimo E mi fa troppo ridere Adesso Cioè Adesso ti mando Veramente i file In mezzo istante Però mi fa molto ridere Il fatto che io Quando ero A Roma Cioè Non so Mi sembra Che mondo assurdo Cioè Io raga Quando ho iniziato A fare i video Su Youtube Non so neanche Se esisteva già La fibra Tipo nel 2015 14 Sì Minchia Io ce l'ho dal 2010 La fibra Ah minchia Ok Allora niente Però Io mi ricordo Che Da me non c'era Ma da me A Roma Non c'è Ma ancora La fibra Nel senso E quindi avevo La La 20 mega E io E non avevo Neanche la FTTH Vabbè Cioè insomma Ce l'avevo Sono dei lussi Dei lussi Che non puoi permetterti Io mi ricordo Che dovevo Per caricare un video Dovevo lasciare Acceso il computer La sera E la madonna Tragico Io ero nel mio periodo Di assoluto grind Quando facevi video Su Youtube Lì Cioè facevo tipo Non ti dico Un video al giorno Ma tipo almeno Quattro a settimana E in più avevo La scuola E in più avevo La scuola E quindi io Lavoravo come un drago E cioè tipo Io ero costretta Cioè se il video Dove uscire il giorno dopo Ma anche due giorni dopo Ero costretta a finirlo Prima di andare a dormire Perché se no Poi sarebbe scalato Il giorno della pubblicazione Per forza E quindi Io lavoravo Oh minchia Mi editavo il mio cazzo di video Su Sony Vegas Fino a tardissimo Per poi lasciare Il computer acceso Con mia nonna Che si incazzava Perché le sfruttavo E i consumi La connessione L'elettricità L'elettricità E quindi E quindi niente Questo Mi fa ridere Che per un video Da un giga Dovevo stare Dovevo lasciarlo Tutta la notte Cioè quando Mi scaricavo GTA 5 Quando mi sono scaricato GTA 5 Sono stati giorni Giorni interi Di download In cui io non potevo Fare nulla Cioè la mia vita Era bloccata Perché stavo scaricando GTA 5 E ora se io prendo E mi scarico GTA 5 Penso che tra un'ora Ce l'ho Massimo Io lo scarico In 40 minuti circa Quindi anche tu Appunto Cioè è veramente Fuera di cabesa Questa cosa Fuera di cabesa Grazie mille Noc Noc Che domanda interessante Nocturno 67 Ha donato 100 Vertra ma un nuovo video Su Sburto Eh 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 Aspetta La settimana prossima Credo Vediamo se io Faccio uno speed test Quanto mi dice Mentre sei in live Eh Vai facciamolo Entrambi Io ho la gigabit normale Eh però tu non sei in live Brutta merda Eh però 1,5 gigabit In meno di te Ah tu hai la Quella 1 Ho la singola gigabit Sì Ci sta Però io c'ho L'FTT Giocate a dbd Non so neanche cosa sia Dead by daylight Ah Comunque io al momento Ho 940 In download Beh minchia Hai una Un giga Fortissimo Io ho l'FTTH Proprio nel culo Eh vabbè no Io anche c'ho l'FTTH Però lo stesso Ma ho la centralina Sotto casa proprio Eh sì Però ho 300 di upload No io invece al momento L'FTTH non è detto Che hai la centralina in casa Eh sì è proprio quello No è che ti arriva Il cavo di fibra Tirato dalla centralina In casa Però magari Tu ce lo puoi avere All'incrocio La centralina effettiva Ah ok Io ho 938 in download 510 in app Ma do 510 in app Stanno in live Calcola Che figata Hai l'upload Della madonna Eh sì Mentre sono in live Nel 2011 Avevo la Una delle prime 1010 Quelle mirrored 1010 Di upload Download upload Ah ok ok Che pochissime erano mirror Perché L'upload era sempre Tipo avevi la 10 mega E di upload avevi 0,5 Io invece avevo Ai tempi a Milano C'era questa 1010 Io ce l'avevo Madonna la gente Mi odiava su COD Eh sì Perché ero Troppo potente Eh ma per forza Per forza Obbligatoria come cosa Ero fordissimo Sì Ad oggi se tu chiedi A un qualunque membro Degli iNub Come ero su COD Si incazzeranno tantissimo Non l'hanno ancora superata 1010 No no Non la superano mai Mai nella vita È una cosa che nessuno supererà No io avevo di upload Ma io a Roma di upload C'ho due forse Madonna santa Nell'anno del signore 2023 Eh ma io ti ricordo Che a Roma Il mio internet È una scheda sim Sì sì no infatti Me lo Ti rimembri ancora Eh sì Eh sì Cioè reggo A stare in live Però ecco Dai grazie al signore Un po' dai Ecco sì Non tanto Però io facevo le live Lo sai Io facevo le live su YouTube Lo stesso Con quella connessione E Come venivano Allora Wharf Molto valide Wharf? Sì sì Sono state le live Che mi hanno permesso di Di poi guadagnare Perché io non guadagnavo nulla A quei tempi Da YouTube? Sì nulla Ma io veramente zero Io non guadagnavo neanche un euro È la madonna Ma neanche un euro Ti giuro Come mai? Eh perché Non guadagnavo nulla Semplicemente Non andava Ma a me la monetizzazione di base Non mi ha mai voluto bene Cioè io ti ricordo Quando avevo avuto il boom Che andavano mega bene video Io guadagnavo Ma la metà di quanto guadagnavano Bertra e Leo Quando facevano Pure meno views di me in realtà Perché nel periodo di boom Io ne facevo più di voi E Cioè Minchia Io con video Io ho video con mezzo milione Che mi hanno fatto 100 euro Neanche Cioè questa era la mia situazione Grave Nel senso Molto grave ragazzi È molto grave Ma gravissima Cioè guarda Vediamo se posso andare a vedere Tipo dal Allora dal La vendetta della demonizzazione Dal 15 Al 18 Al 19 Cazzo quasi 15 Ecco Io dal 25 settembre 2015 Al 22 ottobre 2019 Ho fatto 10.000 iscritti In questo arco di tempo Ok Quanti iscritti scusa? 10.000 Ah ok Avevo capito Di 19 No Ho fatto 10.000 10.000 iscritti Il Mio video con più views Ne aveva 40.000 Per farti capire Ok Ok Cioè in questo Arco di tempo Avevo totalizzato Mezzo milione di visual Ok E sai quanto ho fatto io Con questo mezzo milione di visual? Vai 68 euro Minchia Se io invece vado a vedere Il mio primo anno In cui sono Partita Ashtecca 01.01.01.2020 A Fine 2020 Sì Quindi 22 dicembre 2020 Perché 22 dicembre così arbitrario? No perché già c'era scritto Ok No Ho sbagliato Mi ha tenuto 01.01.2020 Ok Quindi In un anno Ok Il mio primo anno su YouTube Dove facevo Dei numeri Fuori di testa Cioè avevo Vi dico i numeri delle views Dei video Quello con più views Ce ne aveva mezzo milione Un altro Quello subito sotto 400k Quello subito sotto 320 300 300 300 280 250 Cioè Erano tutti i video Sopra le 200k views E avevo Totalizzato 5 milioni di views E voi direte Sono un sacco di soldi Sì 5 milioni di views E 108.000 iscritti Porca cazzo E ho fatto 2700 euro Ma che cazzo Il mio primo anno su YouTube Dove ho spinto Veramente Ho fatto 2700 euro Io vorrei fare questo gioco Ma non posso Ah è vero Che tu c'hai tutto smerdato Ma a me si Cancellate le entrate Stimate Quindi sì Ecco Questo Non ho guadagnato nulla Cioè se vai a dividere Per i video che ho fatto Non ci sono rientrato Per nessuno Praticamente Nessuno Lol Che dire Non posso che dire Lol No Io nel 2020 Bell'anno il 2020 Devo dire Cioè tipo Per farvi capire Ok Io quest'anno Che ho fatto Possiamo dire Tipo tre video Penso letteralmente Sì penso di aver fatto letteralmente Tre video Quest'anno E questi tre video Mi hanno fatto 2100 euro Grazie Noc In un anno Noc in un anno Nocturno 67 In un anno 2020 2700 euro In quanto tempo Capito In un gustoso anno E nel Invece in quest'anno Che non ho fatto video Tre video Mi hanno fatto 2100 euro Mentre nel 2020 Con 5 milioni di views Tanti video Ho fatto Lo stesso Conti e tiro di soldi Che dire ragazzi Che dire E dire Non posso dire altro Non posso dire altro Non posso che dire altro Ragazzi Di questi soldi Di cui tra l'altro Abbiamo Dobbiamo togliere però 1 euro e 36 No 1 euro e 36 No scusami No dobbiamo togliere 4 euro e 47 Gli short Vabbè Vabbè E 18 euro e 58 Dalle live Hai fatto delle live su youtube A quanto pare si Ok E pensate Un'altra cosa Cioè Io in quell'anno Nel 2020 Avevo fatto 2500 euro Con 5 milioni di views Cioè Un Un cpm Di 50 centesimi Avvia Cioè Atroce È bassissimo È bassissimo Ora sta a 2 3 circa Cioè 50 centesimi È veramente La merda E E io ho il video Che mi ha fatto Più soldi di tutti Fatto nel 2022 Che un video Con Quante visual ha? Mezzo milione Di visual Ah no Mezzo milione Sono quelle monetizzate Quindi poi sono di più Con delle visual Il video ha Numero 678 mila visual E mi ha fatto 900 euro Questo è il video Che mi ha fatto di più In assoluto Quanti? 678 mila visual 900 euro Eh Lo stesso non è tanto No non è tantissimo Infatti Eh ma che ti devo dire Cioè nel senso Me e youtube Non mi ha mai voluto bene Quei soldi E io non ho mai avuto Un video demonetizzato Praticamente Madonna Dai tempi No noi non parliamo Pulitissimi Pulitissimi Io no Io ho mai stato Pulitissimo Di quanti anni Di quanti anni è Bertra ancora Non hai cambiato La descrizione Di questo canale Io non ho parole Come no Sì no no L'ho cambiato Perché quel video È così vecchio Che è ancora Con la vecchia descrizione È vecchissimo Che minchia Sì stavo nella vecchia casa Neanche avevo iniziato Al trasloco Cioè No no è vecchissimo Di quanti Cioè ma si parla Di anni fa Questo video Praticamente Sì più o meno Non ho parole Veramente Vabbè Intanto Quando ci sono i buchi Se vado a scavare Nei video vecchi Trovo queste cose Allora ragazzi Io al momento Sono presa Allora Questione di budget E poi Io al momento Sono presa Da un grande progetto Vero Tutto è presa Da un grande progetto Che sarà molto più Amichetti normale Della amichetti normali Che dici tu Che in realtà Amichetti gaming Amichetti gaming No sì è vero Sarà molto più Amichetti normale Esatto Cazzo Non ci avevo pensato È molto amichetti E c'è un ordine Strano di uscita Di cosa Dei video su Uncut No Cioè perché Quello è di non farti domande Fra Escono Fatelo andare bene Non farti problemi Ci sono otto pubblicità Eh raga Non dipende Noi abbiamo messo Il minimo di pubblicità Sì infatti L'abbiamo praticamente levate 100 euro al mese Di pubblicità Manco forse Neanche Sì stai scherzando L'abbiamo proprio Distrutte Annichilite Perché tanto ci pagavano Così poco E ne mettevano Così tante Che c'è Fanculo Piuttosto la gente esce Quindi abbiamo detto Boh Vabbè Non ha senso Non ha senso E vabbè nulla Comunque Detto questo Vogliamo Farci qualche reazione Vogliamo continuare a parlare Vogliamo provare a fare Il serverino Di Minecraft Il serverino sarebbe figo Ok va bene Io la partita La Minecraft la farei Solo che non so Come si fanno I server di Minecraft Ma sarà una cagata Nel senso Se riuscivo a farlo A 14 anni Spero di riuscirci ora Se no mi preoccupo Minchia io a 14 anni Avevo fatto il server Con Amaci È vero Ah eh Quelli erano storici No questo Lo facciamo un po' Più alto Più elevato No no Perché più che altro Quelli con Amaci Erano impossibili Tu ti ricordi Il dolore No No Porca troia Fra mezza giornata Ad aprire le porte Il DNS Tutte ste cose Perché se no non partiva Ah è terrificante È una delle cose Che ricordo Con meno affetto Del mondo Ieri ho donato 4 anni di sub In che senso È vero Hai donato 4 anni di sub Oh cazzo È vero Che bello Vediamo la guida Per capire Quanta RAM ci serve Secondo me 3 giga Basta Non avanzano Ci facciamo anche Una grigliata In mezzo Allora Ci consigliano 3 giga Sì Per Salciccia Gordo Baciccia Na 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 La riva Della mare Ah no Per la 1.20 È ufficialmente requisito 4 giga No porca troia Eh ne possiamo Più a 5 Dai Abbiamo 5 Così Stiamo tranquilli Sono pazzi Perché non fate Qualche gioco Con la chat Perché facciamo Il subday Una volta al mese E Se giocassimo Anche con la chat La gente Non si saprebbe più Quindi se volete Giocare con noi Pagate Stronzi Scusate Wow Vogliamo prendere Un mese O ci vogliamo Prendere L'impegno Di fare L'annuario Ah tre mesi Ah sì Ce lo prendiamo L'impegno Per tre mesi A me piace Tantissimo La skyblock Tu non hai idea Ok ok Ah Pure le spese Di gestione Dell'ordine Wow 18.000 euro Cioè con paypal Pago 1 euro e 30 Di gestione dell'ordine Sì o per Ma posso ricaricare La loro poste pay Cos'è che puoi fare Puoi ricaricare Guarda Cioè metodi di pagamento I metodi di pagamento Sono carta di credito Paypal Paysafe card Ricarica La nostra poste pay E bonifico bancario E gli unici che non hanno Spese di gestione Sono poste pay E bonifico bancario Vabbè ma ricaricare la poste pay È laidissimo Oddio Quasi per me Me lo voglio fare Faccio bonifico La faccio bonifico Devo 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 Farmi l'account Password Adioleve Aggeves Aggeves Ah ho scoperto di essere Già loggata a game hosting Ah sì Abbiamo inviato una mail All'indirizzo Totta ma usa la Ternos Che è gratis Ti dicono Grazie per i beat Jumpa Grazie mille Bacioni Vabbè ma so È poco Come funziona A Ternos Grazie mille Jumpa Grazie Non è mai poco Vediamo un po' Se farà cagare Se è gratis fa cagare Questa è una cosa Che ho imparato Nei miei 23 anni di vita Una saggezza Ah Ah That's my shit Niente da pagare Ma ovviamente C'è già l'account qua E mi chiamo Noxer Quindi probabilmente L'ho usato precedentemente Nella mia vita Chia È stato molto precedentemente Ah ok ma perché Pimpato di pubblicità A merda Mood That's my shit The girl is gonna feel like this Ah posso mettere i colori In che senso i colori Tota stai dicendo Un sacco di cose Che io non capisco E sono assolutamente Nel mio mondo Intanto Non ti lag Ma Aterno Ma no Java Java Ma Jay Tanto siamo in due Su Sul nostro server Quindi Dai penso Che possa leggere Ah devo togliere Adblocker Ah 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 Non si usa Ah basta È fatto Ah What the fuck Ma che cazzo That's it Cioè funziona Ma Ok L'ho fatto 1. Qual è l'ultima versione Di minecraft 1.20.2 L'ultima Faccio 1.20 No Jay Non è il server Dei sub Coop Come si suol dire Dalle mie parti Seed Non penso Apriremo mai Un server Dei sub Perché devi starci Di un dietro Ma di un dietro È impegnativo Effettivamente Io vi giuro L'unica volta Che ho avuto Questa malsana idea Sono andato via Cinque giorni Sono tornato Cinque giorni dopo Avevano già terraformato Tutto il mondo Ho detto Ok basta Andate così ragazzi Non c'è più voglia Chi mi ha so in culo Ah ah Perro salciccia Gordo Baciccia E ok E quindi ora Che faccio La riva del mar Non ho capito Cosa fate su Minecraft Cari I bellissimi Non possiamo che fare I bellissimi Ragazzi Ah Il marinero Perro salciccia Gordo Baciccia La riva del mar Tiene sombrero Del marinero Questo come Non riesco a capire Come funziona Come Come funziona Non lo siamo Sei stato contagiato La totta Sì Oggettivamente È vero Grazie Noc Nocturno 67 Ha donato 100 Totta ti dico solo Che sul server Che ho con G Sono diventato Un membro Della famiglia Benetton Oh no La famiglia Benetton La software Purpur Bucket Comunque abbia detto Eternos Comunque ha rotto Totta Io non volevo dirvelo così Ma si è proprio rotta Perché? Ti sento che Mugugni cose Mugugni parole strane Io non capisco niente Di quello che sta succedendo Sono tipo Ma no Perché sto facendo il server Lo stai creando da zero? Eh sì Cazzo Che cazzo pensi Che lo fa qualcun altro? Coglione Non dire queste parole La mamma ha detto Che non si dicono Porca di una Oh i E Però Non c'è bisogno Di essere aggressivi I'm working for you Ma non ero aggressivo E poi dove vado? Ah qua Plugins E cerco Ok I famosi Plu plu Mi sa non viene aggiornato Dal 2016 Quindi direi di no Questo dal 2018 Nel 2018 Tiene sombrero Pure questo Nel 2018 Sì quella 1.12 Manca fa così Fra Questo manco ti dice Devo mettere Devo mettere Minchia la Pandora La Pandora 1 era stata Molto divertente Sì Molto fan C'era stata Della grande anarchia Poi c'era La Pandora 2 Qual era Quella dove erano entrati Mates O era la 1 Sì La 2 No era la 1 No era la 1 Perché la 2 Poi è quella Che non ho fatto Tu O quella No era quella Con tutti gli eventi strani Che poi ho droppato Dopo un po' Perché non ci stavo dietro Fun Eh no La dobbiamo fare In 1.19 Eh vabbè Non succede niente L'importante È giocare insieme Ok Quindi io vado poi su Plugins O Skyblock O Skyblock O Skyblock Skyblock O i core E chi stu core Amichette della Pandora 4 Non credo Più che altro Perché non abbiamo Tutto uscito tempo No Purtroppo no raga Ok Non ci stiamo dietro Ashton 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 Maron Tu guarda Oddio È un po' Complicato Non è vero Una merdata In realtà Cos'è stato Questo Completo 180 Lo spero Che vi siete La Pandora 4 In caso contrario Vado a corrompere Nova Ragazzi noi non saremo Nella Pandora 4 Io spero che voi Siate nella Pandora 4 Ma perché proprio Non ce la facciamo Starci dietro In caso contrario Vado a corrompere Nova XCV Ma perché Cioè Anche se ci Invitassero Noi dovremmo dire No Grazie Perché Non Possiamo Non ce la facciamo Non possiamo Fare il perro Salsiccia Gordo Baciccia Ok Word Edit For Book it Book in Madonna Oddio Oddio Cos'è stata Questa cosa Terribile No no Questo è stato Brutto Vero Madonna Atroce Fra Atroce Questa cosa Questa cosa Veramente atroce Mi sono sentita A disagio Devo ammetterlo Devo ammetterlo Mi sono sentita A disagio È stato Abbastanza 6 18 22 Perro Salsiccia Gordo Baciccia Scusate Scusate Ma le reaction Boh Chi ve sa in culo La raga Oggettivamente No scherzo È vero Ci siamo quasi bene Col Minecraft Dovreste essere felici Che non ci viene Il momento Minecraft Così matto Siate felici Lo facciamo per voi Come ciccio gamer Scherzo Questa è una cosa Estremamente egoista Che stiamo facendo Lo facciamo per noi Che vogliamo giocare A Minecraft Di base Oddio Il perro Salsiccia Come nuovo emotico Nei io me la vai berei Sincero Dai la faccio Sincero me la vai berei E poi Ehi quante cose Deve aggiungere Come lo faccio Con un bassotto normale O Ma prendi Il perro Salsiccia Eh non lo trovo Perdo Salsiccia Gordo Baciccia Prendo un bassotto Molto grasso Oh no C'è proprio Eccolo Ho trovato Un piccolo Quadro del perro Salsiccia Con il cappello Del marinero No Stiamo rubando Tiene sombrero De marinero Stiamo rubando Dell'arte Ah no No Ok Preciso Preciso C'è quello fatto Dall'intelligenza Artificiale GG Grazie Sconosciuto Per la sub Grazie Del GG Tiene sombrero De marinero De marinero Nocturno 67 Ha donato 100 Ma quindi Alla fine Che cani siete Oh cazzo No ti prego Non chiederlo Mai più Non chiederlo Mai più Io Ho richiesto Questa cosa Ad altre persone Finita la live E Mi è stato detto Border Collie Ma Non so se mi convince Come Border Collie Sarò onesto Io sto Dicendo ciò Che mi è stato detto No no ci sta Io non l'ho chiesto A nessuno Quindi non lo sapremo mai Non so cosa dirvi Tiene sombrero De marinero Vuoi la scritta O vuoi soltanto L'immaginina Vuoi solo Solo l'immaginina Del perro salcicio O vuoi anche una scritta Mi piacerebbe anche la scritta Perro salcicio Sinceramente Sì Sì Va bene va bene Facciamola allora Perro salcicio Gordo baciccia La riva del mar Tiene sombrero Del marinero Ok quindi questo Ok Poi vado su server Start Perro salcicio Server Intanto stupido Start Yes Ah Mi devo vedere Un add Mentre mi start Nel server Corretto Te lo meriti Di undici secondi Io sono happy Di aver generato Un nuovo copypasta Quello di Sabrizna Ah quello di Sabrizna La prossima serata Mongas con i sub Quando la farete Inizio novembre Faremo la nuova Subday Subnight Subb Subb Tiene sombrero Del marinero Del marinero Scusa io starei facendo Qualcosa di Molto più importante Di qualunque Puttanata Tu dica Faffanculo Riccardo Bertrand Vediamo quanto ci mette Per scaricarmi Minecraft Ma i sound alert Sono attivi Sì I sound alert Sono attivi Che noi Avete sentiti Fino ad ora Porca troia Il burdello Che è partito Con Con L'hype trendy Soi Francesco Virgolini Virgolini Fiao Che cazzo dici Che è troppo grande Tua madre è troppo grande Quella Bertra Bellissima donna Eh dai Un po' Un po' Da matti Un po' Da mattacchioni Nuova installazione 1.19 Per rossal Porca troia Porca troia Che paura Porca puttana Mia madre Porca troia Mi sono cagato Sotto Cos'era? Madonna Ah il server è pronto Grazie 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 mille No io anche devo affermare Di essermi cagata Nella pantalona Ma io stavo guardando Il perro salciccia Fortissimo Ma io ero tutta impegnata A scaricarmi Il download nuovo Quack Adesso fai quack Pezzo di merda Quack Porca puttana Se mi sono cagata In mano Condivido Madonna Non posso che dire Oh ma Dio Oh Boop Boop Scusate se vi Se lagga il volo Ma è l'apertura di Minecraft Ragazzi Ormai ci conoscete A poco Non sape Ma? Brot Mi ha fatto ridere Prot Sono veramente una persona poco matura Ragazzi Perro salciccia Gordo 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 baciccia Perro salciccia Gordo baciccia Perro salciccia Gordo Allora E cos'è che hai messo 1.21 Giusto? No 1.19 Tu sei veramente Stupenda Allora Ti mando l'IP Aggiornato Grazie mille A un punto canale Parte il perro salciccia Sarebbe una bellissima giornata Connecting to server E vediamo se mi fa Spawnare su un'isola Something went wrong I'm not on an island What happened? What's happening? No perché non Ah Ok Ok Pezzo di merda Bertra hai fatto l'amore Che cazzo di domanda è? Il correttore raga Ok Ok Me ne ricorderò Di queste domande Strane Allora Mi devo oppare Oppati Sto cazzo Come ti chiami tu Su minecraft? Non me lo ricordo Ok Scopri Robertra Sbertra Sbertra Non esisti Oddio Buono Allora sono stupido Dammi dieci secondi Una gaviota Medio Marmota Una gaviota Medio Marmota Ma che ridere Ci sono Le frogs Eh Sti chiami il bar Sì sono qua Sono nel mondo E sono non su Un'isola Eh lo so Che cazzo ti ha detto Di entrare infatti Una froge Ho trovato anch'io Froge Ciao froge Ti visi Ma non ricordo Bertrand Si sente tutto Minecraft No no ma ora Mi ammazzo Sul gioco E arrivo No no ma ora Mi ammazzo Il mitologico Bryman Ragazzi è Desaparecido Eh no che mi sono persa Cosa non ho messo Di giusto Sì ho fatto L'emote Adesso dovrebbe Caricarsi Ok Quindi Alla dovrei Ferti Slash Island Create Sta creando La mia isola Eccola C'è Ci sei Sì c'è C'è il perro salciccio No sta creando L'isola Aspetta Oh ti ho detto Sta creando L'isola Aspetta Ed entri Vabbè scusa Sì eccolo Il perro salciccia Ok Entra Bertra Antiperro salciccia Ragazzi Entra Bertra Arrivo Arrivo Ti dovrei Ok ti ho invitato To deferity Slash Is Accept Island Accept Sì Ok Ok Eu L'isola